Charles de Saint-Denis, signore di Saint-Evremont, l'uomo che Ninon amò realmente durante la sua vita, è uno dei principali esponenti del libertinismo erudito. Nato nel 1616, conduceva un'attiva vita mondana e letteraria frequentando il salotto di Ninon. La fedeltà a re durante la fronda gli valse il grado di maresciallo di campo e una pensione di mille scudi, ma l'arguzia e la libertà con cui si esprimeva gli valsero tre mesi alla Bastiglia. Nel 1659, accompagnando Mazzarino alla frontiera spagnola per concludere la pace dei Pirenei, scrisse al Marchese de Croiqui una lettera in cui accusava il cardinale di aver sacrificato gli interessi della Francia al proprio profitto. La lettera, ritrovata durante una perquisizione da Colbert e da Aletayet, rovinò la vita di Saint-Evremont. Avvertito dell'arresto imminente, Saint-Evremont si rifugiò in Olanda e poi in Inghilterra dove Carlo II gli concesse una pensione di 300 sterline, che fu poi confermata dal principe d'Orange. Solo nel 1689 Luigi XIV perdona lo scrittore che però, più che settantenne, rifiuta a quel punto di tornare in Francia. Morì così il 9 settembre 1703 a Londra e fu sepolto a Westminster. Rimase fino all'ultimo fedele al libero pensiero. Quando gli chiesero in extremi se voleva riconciliarsi con Dio, rispose «Con tutto il cuore vorrei riconciliarmi con l'appetito». E ora le lettere che Ninon de Lancelot scrisse a Saint-Evremont. 1687, Ninon al suo amato Saint-Evremont. «Sfido Dulcinea a ricordare con più gioia il suo cavaliere. La vostra lettera è stata accolta come merita e la triste figura non ha fatto diminuito la qualità delle opinioni. Sono toccata dalla loro forza e dalla loro perseveranza. Conservatele a onta di coloro che si permettono di giudicarle. Credo, come voi, che le rughe siano i segni della saggezza. Sono felice che le vostre virtù esteriori non vi rattristino. Io cerco di fare altrettanto. Avete un amico governatore di provincia che deve la fortuna al suo fascino e l'unico vecchio che sfuga il ridicolo a corte. Monsieur de Turenne voleva vivere solo per vederlo da vecchio». 1687, Ninon a Saint-Evremont. «Ero in camera mia tutta sola e molto stanca di leggere quando mi hanno annunciato. C'è un signore da parte di Monsieur de Saint-Evremont. Potete immaginare che in un attimo tutta la noia è svanita. Ho avuto il piacere di parlare di voi e ho preso cose che le lettere non dicono, che siete in perfetta salute, le vostre occupazioni, la gioia dello spirito e la prova della sua forza. E la vostra lettera, come al tempo in cui Monsieur de Turenne vi faceva seguire dai domestici, mi assicura che l'Inghilterra vi promette ancora quarant'anni di vita. Perché mi pare che solo in Inghilterra si parli di coloro che hanno superato i limiti estremi dell'età matura. Avrei desiderato trascorrere la vita che mi resta con voi. Se lo pensaste anche voi, sareste qui». Tuttavia è abbastanza bello ricordare sempre le persone che abbiamo amato. E forse per abbellire il mio epitafio che è avvenuta questa separazione fisica. Vorrei che il giovane preditore mi avesse trovata nella gloria di Nicea in cui si restava immutati, perché mi pare che mi consideriate colpita da quell'incantesimo. Oh, non cambiate le vostre idee a riguardo. Mi sono sempre state favorevoli. Ho letto con gli occhiali davanti a lui la vostra lettera, ma non mi stanno male. Ho sempre avuto un aspetto serio. Forse il vostro desiderio sarà realizzato, perché non passa giorno che non mi si voglia consolare delle mie perdite con questa bella espressione. Ho saputo che volevate la fontena in Inghilterra. A Parigi non si gode molto della sua presenza, è diventato parecchio svanito. È il destino dei poeti. Dubito che vi sia un filtro d'amore per la Fontaine. Non ha amato molte donne in grado di acquistarlo. 1697. Nino ha il suo amato Saint-Evremont. Apprendo con piacere che la mia anima vi è più cara del mio corpo e che il buonsenso continua a guidarvi verso il meglio. Il corpo, per la verità, non è più degno di attenzione, mentre l'anima ha ancora qualche barlume che la sostiene e la rende sensibile al ricordo di un amico la cui assenza non ha cancellato i tratti. Racconto sempre vecchie storie in cui Monsieur d'Alben, Monsieur de Charleval e il Cavaliere de Rivière prendono in giro i moderni. Voi entrate in scena nei momenti forti. Ma poiché anche voi siete per i moderni. Sto bene attenta a non lodarvi davanti agli accademici che si sono dichiarati a favore degli antichi. Mi è tornato in mente un prologue à musique che mi piacerebbe vedere rappresentato a Parigi. La bellezza su cui è imperniato farebbe invidia a quelle che lo ascoltassero. Non tutte le nostre elene hanno diritto a un omero e a essere sempre le idee della bellezza. Eccomi posta molto in alto. Come scendere? Carissimo amico, non bisognava mettere il cuore in quello che scrivete. Vi assicuro che vi amo sempre più teneramente di quanto permetta la filosofia. La duchesse de Bouillon è come a 18 anni. La fonte del fascino è nel sangue dei Mazzarino. Adesso che i nostri re sono amici non dovreste venire a fare un giro da queste parti? Per me sarebbe il più bel risultato della pace. 1698. Ninon al suo amato Saint-Vremont. Come potete credere che la vista di un giovanotto sia un piacere per me? I vostri sensi vi ingannano su quelli altrui? Ho dimenticato tutto tranne gli amici. Se il titolo di dottore non mi avesse rassicurato vi avrei risposto tranne la Bate d'Hotfeuille. E i vostri inglesi non avrebbero neppure sentito parlare di me? Alla porta sono stati avvertiti che non c'ero e hanno lasciato la vostra lettera e che mi ha rallegrato più di tutte quelle che ho ricevuto da voi. Che voglia di bere del buon vino e che disgrazia non potervi garantire il buon esito dell'impresa. Monsieur de l'Armitage vi direbbe, come me, che Monsieur de Gourville non si muove più dalla sua stanza, come indifferente ai piaceri. È sempre un buon amico, ma gli amici evitano di invitarlo per paura di creargli delle preoccupazioni. Detto questo, se con qualche accortezza che ancora non prevedo potrò ricorrere alla mia abilità per il vino, state certo che lo farò. Monsieur de Taillard è stato un tempo un amico, ma gli affari importanti distolgono gli uomini importanti dalle cose futili. Mi hanno detto che l'abate di Bois l'avrebbe accompagnato. È un signore piccolo e acutissimo che credo vi piacerà. Ho in mano venti vostre lettere, qui tutti le leggono e le ammirano. Come vedete il buon gusto non è scomparso dalla Francia. Mi ha deliziato il passaggio in cui dite di non preoccuparvi più di poter annoiare e di considerarvi saggio a curarvi soltanto di voi, sebbene il principio di non poter più piacere agli altri sia falso nel vostro caso. Ho scritto a Monsieur Morelli, se troverò in lui tutto il sapere di cui mi parlate, lo considererò un vero dottore. 1699. Nino al suo amato Sainte-Vremont. Il bello spirito è pericoloso nell'amicizia. La vostra lettera avrebbe fuorviato una donna diversa da me. Conosco la vostra immaginazione vivace e sorprendente e ho dovuto ricordarmi che Luciano ha scritto l'elogio della mosca per abituarmi al vostro stile. Magari pensaste davvero di me tutto ciò che dite. Farei a meno di tutte le nazioni. Perciò la gloria ricade su di voi. La vostra ultima lettera è un capolavoro. Ha fornito l'argomento di tutte le conversazioni che si sono svolte in camera mia nell'ultimo mese. Voi tornate alla giovinezza. Fate bene ad amarla. La filosofia si accorda con i piaceri dello spirito. Non basta, non basta esser saggi. Bisogna piacere. E vedo bene che riuscirete a piacere sempre finché continuerete a pensare come pensate. Pochi resistono agli anni. Io credo di non avere ancora ceduto al loro peso. Vorrei, come voi, che Madame Mazzarino avesse considerato la vita in sé, senza pensare al suo volto che sarebbe stato sempre amabile, quando anche il buonsenso avesse preso il posto di un po' di splendore in meno. Madame Sandwich conserverà la forza dello spirito, perdendo la giovinezza, almeno così credo. Addio, signore. Quando vedrete la contessa di Sandwich, ricordatemi a lei. Sarei molto dispiaciuta se mi dimenticasse. Fine